allora riprendiamo subito io do subito il microfono a fabio che parlerà della cattedrale di san venanzio e del museo diocesano quindi una lezione propedeutica alla visita che andremo a fare sabato mattina grazie grazie allora in realtà parlerò più della cattedrale degli inizi della cattedrale perché domani dopo del museo ne parliamo allora voi sapete tutti no il momento in cui 1728 fabriano conquista la cattedra episcopale e poi quando nel 1750 viene accorpata per la prima volta a matelica per poi dopo essere di nuovo riaccorpata nel 1986 adesso conoscete un po tutti no anche perché il palio l'ha raccontata molto no questo discorso il difficile rapporto no che i fabrianesi hanno avuto sempre con il culto di san venanzio privilegiando chiaramente il battista molto è stato detto no sul battista come cul come patrono autentico nodi di fabriano che appunto tuttora insomma veneriamo insieme alla madonna del buon gesù insomma nella storia san vincenzo ferrer san bernardino la siena san romualdo insomma i grandi patroni di di fabriano e quella che sta intorno alla cattedrale è una storia tipicamente fabrianese di cui dobbiamo essere orgogliosi proprio perché racconta il tentativo di una comunità ricca importante numerosa che per secoli tenta di avere la dignità della diocesi tenta di ottenere dal papa il riconoscimento della cattedra episcopale dove la cattedra episcopale significa un territorio la possibilità di gestire anche i frutti della 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 propria ricchezza senza doverli no in parte destinare a camerino e tolto insomma la quota per roma e questo è stato sempre un percorso che ha fatto sì come intorno alla chiesa matrice di di san benanzio dove nel mille dal 1253 viene portato da tigio il il fonte battesimale quindi diventa appunto chiesa matrice perché appunto titolare del fonte battesimale cittadino e quindi ecco della consacrata con questo con questo privilegio segna una grande storia di questa comunità una grande storia che trova per come la conosciamo noi la cattedrale la propria sintesi la propria sintesi in un momento molto molto importante durante la seconda età del cinquecento fabriano conquista nuovi mercati diciamo riesce a superare un po la fase della di crisi della produzione carta che si era venuta a verificare nel nel agli inizi del cinquecento quando fabriano per certi versi non è che non aveva esporta cioè si è molto riflettuto su questa crisi diciamo una crisi per certi versi indotta dai fabrianesi che durante il quattrocento diciamo esportano il nuovo esportano la conoscenza il magistero in tante città e quindi durante il quattrocento durante la seconda età del quattrocento cominciano a nascere in tutta italia vari cartiere ma in realtà che cosa succede con questi fabrianesi che vanno appunto in italia all'estero a portare il know-how no di della nostra produzione in realtà fabriano non riesce diciamo a capire la vitalità della stampa l'importanza della stampa e quindi non riesce a fare alla fine il quattro alla fine il 400 e gli inizi del 500 non riesce a fare proprio questo aggancio no a portare in una città dove portare in una città dove c'era una grande e importante tradizione cartaria poi la nuova industria tipografica quindi ecco a differenza magari di foligno e altre città vicine dove si riescono insomma no a a capire diciamo questa grande rivoluzione introdotta la tipografia i tipografi fabrianesi non riescono a stare industrialmente al passo e quindi per certi versi insomma anche far sì no che assolutamente le fabbriche per la produzione della carta gli opifici ai grandi centri di stampa insomma metteva in qualche modo su tanti aspetti fuori mercato insomma quindi c'è una crisi molto complessa che vive la città che riesce a superare facendo quello che è un percorso un processo non di chiaramente di abbandono di questa tradizione che continua sempre ma trovando nuove visioni e nuove situazioni di riconversione economica nuove situazioni e quindi è in questo momento che fabriano rinasce grande rinasce grande la produzione tessile proprio non solo quella dei panni d'anima proprio del confezionamento dei vestiti gli abiti militari in tante situazioni insomma le cosiddette calzette no insomma c'è è un momento che di grande vitalità è un momento dove tante famiglie fabrianesi durante il cinquecento soprattutto si insediano a Roma nella Roma di Sisto Quinto nella Roma dove riescono insomma anche a impiantare attività commerciali quindi fabriano proietta tanta della sua economia su Roma quindi appunto è un momento estremamente felice della città che vede alla durante la seconda metà del del cinquecento tra gli anni ottanta e novanta il primo grande tentativo di ricostruire san benanzio di rinnovare l'immagine della città e quindi passare dalla fabbrica medievale simile un po sant'agostino a san domenico non insomma di cui noi conosciamo l'abside no tutti tutti i resti passare una chiesa moderna degna di una grande città no intorno a questa fabbrica poi nasce il rinnovamento di san benedetto di san nicolò insomma no delle altre grandi fabbriche cittadine dei grandi tempi cittadini protagonista di questa storia sarà il canonico della cattedrale giromo santa croce di un'antica famiglia fabrinese radicata molto con gli orsina rom grandi contatti troverà in francesco stelluti fondatore dell'incei fabrinese una sponda di grande rilevanza roma cioè quindi è un momento in cui tutta comunque la comunità perché noi indipendentemente ai personaggi dobbiamo sempre avere questa dimensione di una comunità che cittadina che con le sue energie migliori tenta finalmente no di presentarsi al meglio possibile per conquistare finalmente in qualche modo per far vedere al papa di essere degni di ospitare una cutter no perché le richieste dei fabrianesi verso il papa sono state continue sono state continue ecco quindi che recentemente circa quattro anni fa ad esempio trovo un documento inedito molto curioso no che fa capire questa siamo nel 1592 a girolamo assusate a simone de magistris che allora di caldarola che allora rappresentava in questa zona della diocesi camerino l'artista locale è sicuramente più importante la comunità fabrinese chiede di riaffrescare la riaffrescare la cappella di santa barbara no la prima entrando in cattedrale da questo punto di vista la cappella di santa barbara e commissionano proprio la questo lavoro ex novo gli chiedono di fare gli stucchi gli chiedono di fare la decorazione con un ciclo con le storie santa barbara insomma c'è quindi il primo embrione di quello che dovrebbe essere la nuova cattedrale cioè sulla della nuova chiesa matrice è una cosa non indifferente questa cosa perché fa capire clima perché ecco simone de magistris onora questo suo impegno ma passano poco più di 15 anni e questa cappella appunto viene distrutta no buttano a terra buttano a terra tutto questo investimento fatto su un pittore molto importante proprio perché c'è finalmente riescono finalmente a trovare i fondi per fare un progetto unitario funzionavano anche così no investimenti fatti 10 15 anni prima comunque importanti che appunto vengono cancellati vengono cancellati perché degli affreschi simone magistris non c'è traccia e noi sappiamo che la fatti perché comunque gli li pagano a quietanza consuntivo tratto lui realizza anche a freschi e stucchi e quindi finalmente questa comunità si rivolge a mozio oddi mozio oddi lo vedete qui il ritratto che allora era appena reduce da un cantiere molto molto importante aveva terminato nel 1602 il cantiere del duomo di urbino quindi una delle chiese più nobili e importanti delle marche e con la nuova cupola con la nuova cupola monumentale lui stesso lavorava anche poi per loreto e comunque era il cantiere ufficiale dei sussate era l'architetto ufficiale di duchi di monte felto ecco così che tra il 1605 e 1607 mozio oddi petto uno degli architetti più in vista più importanti di quella stagione marchigiana consegna il questo è il duomo di urbino nella fases di muzio oddi consegna il progetto per la nuova san benanzio tra l'altro una cosa estremamente curiosa se ne è parlato con varie volte con con don alfredo insomma che anche adesso per si pensava di fare di farne una pubblicazione per una piccola pubblicazione per il centenario della cattedrale questi disegni di progetto di muzio oddi si trovano a londra meglio ad hampton court nella collezione della regina d'inghilterra c'è tutto un fascicolo di disegni sono circa una quarantina con tutti questo è una una sezione con tutti i disegni di progetto della nuova cattedrale di fabriano e lui studia gli stucchi gli altari chiaramente tutto tutto il progetto architettonico insomma ecco quindi ecco quindi che finalmente questa comunità riesce riesce ad ottenere questo obiettivo poi che cosa succede muzio oddi non seguirà più gli l'andamento il cantiere anche se comunque come succedeva allora insomma no gli architetti davano questi disegni molto particolareggiati poi spesso hanno architetti locali capimastri che portavano da un'esecuzione al progetto un po come fanno oggi no le archistarra no come se avete visto il caso curioso della nuvola di fucsas dove fucsas fa questo questo disegno e tra l'altro io l'ho dato all'impresa dopo scappa fuori che c'è l'hanno spostata di due metri hanno invaso la sede stradale hanno fatto un pasticcio colossale con danni di cimunare con fucsas che dice ah io ho dato solo i disegni poi non ho seguito più niente insomma no così che cosa succede muzio oddi entra in conflitto con francesco maria secondo della rovere duca di urbino e arriverà ad essere imprigionato entra in una dinamica di palazzo viene coinvolto praticamente con lui era molto amico del cugino di polito della rovere che aveva sede stabilmente a gubbio e che tra gubbio e pesero in qualche modo faceva un po' contattare insomma entra in un cono d'ombra viene calunniato insomma viene rinchiuso per quasi cinque anni in prigione e quindi blocca tutta questa attività e nelle sue memorie ho prodotto no questo queste memorie che raccontano appunto di questa vita di questi anni molto duri dove lui addirittura no tenta ovunque di studiare di fare sui studi perché muzio oddi era un grandissimo anche ingegnere matematico e proprio a urbino cioè tra urbino e san leo dove sta in prigione addirittura no con le le ceneri le tentano di usare appunto deve avere delle polveri note per i legni bruciati non tenta avere delle polveri per disegnare per fare i suoi studi infatti durante questo anno questi anni pubblica il suo studio che diventerà proprio famoso in tutta europa sugli orologi solari il grande lavoro no di astronomia tra di strano via di misurazione del tempo sugli orologi solari giaceva tra lo squallor della calcere non era solo rapito dall'amor della scienza ma questa stessa rivolgeva al vantaggio della sua padria forse dimenticano perché dopo riesce a ottenere un accordo comunque viene liberato ma deve andare via da urbino sta per un periodo all'oreto però dopo si sposta a milano ecco però che questo grande progetto questo grande progetto fabrianese viene affidato a un architetto che si muoveva tra loreto e orbino alcuni fra più grandi sicuramente cantieri che allora erano aperti nelle regioni marche e fabriano riesce ad avere la forza economica di pensare questo tempio affidandolo a una persona così importante ripeto noi oggi conosciamo forse banale di sfuggita il nome di muzzo obdi come progettista della nostra cattedrale ma in realtà fu fatto un percorso assolutamente importante no questo ecco è la parte dell'abside la facciata che noi tutti conosciamo agli interni l'altro aspetto qualificante della nostra cattedrale di questo progetto questo progetto appunto viene pensato a roma sono gli stucchi sono stucchi bellissimi di grande qualità che voi tutti conoscete che vede all'opera la comunità di fabriano chiama francesco silva o selva stuccatore ticinese che quando arriva a fabriano intorno al 1613 ci rimarrà fino a verso il 17-18 aveva un pedigree di tutt'altro di grandissimo rilievo appena prima di stare a fabriano aveva licenziato la baristucchi dentro la sagresia dentro la basilica di loreto e quindi ecco ritorna l'approccio con loreto ancora prima era venuto nel centro italia per lavorare all'atrio della basilica di san pietro in vaticano cioè queste grandi botteghe specializzate di stuccatori quindi dal vaticano alla basilica di loreto anche la basilica di loreto è una basilica papale a fabriano a fabriano dove lascia la sua impronta e dopo fabriano ritorna nel nord a questo è un altro esempio lauretano ritorna nel nord nel caso specifico a barese dove realizza la basilica del sacromonte e tutte le storie del sacromonte di varese dove ci rimane vent'anni vent'anni quasi a lavorare con questo ecco vedete tutte le statue in istucco insomma no con sono circa 20 quadri di questo itinerario sacro e questo è lo scultore è il maestro plasticatore di gessi che lavora nella nostra cattedrale no insomma è questo il grande protagonista insieme a Selva perché che obiettivo no aveva la decorazione stucco di dare no chiaramente la visione unitaria la nostra cattedrale ha una visione molto molto armonica che adesso chiaramente la dovevamo pensare chiaramente con il cielo con anche il soffitto dipinto no quindi una evoluzione molto armonica moderna piacevolissima insomma cioè forse diciamo la facciata non rende no la la semplicità della facciata non rende la ricchezza di quello ma sicuramente se se lo stesso Muzziotti avesse eseguito il cantiere avremmo avuto anche una facciata più simile a quella anche di Urbino quindi ancora più monumentale no questi sono i destini della storia però lui questo cantiere l'ha seguito pochissimo infatti anche nel nostro archivio del Cesano praticamente ci sono documenti sulla presenza di Muzziotti però ecco sta di fatto ecco che vedete questa ricchezza delicatezza anche gli stucchi nelle cappelle laterali non parlo quelle di decorazione architettonica ma quelle decorazioni agli altari sono affascinantissime domani ci soffermeremo a vedere scusate sabato ci soffermeremo a vedere tanti dettagli ecco quindi che finita questa fase più impegnativa che è quella appunto dell'architettura e della decorazione unitaria ecco quindi che inizia il grande felice lavoro di dialogo sempre con Roma per comprare o riuscire a portare i grandi maestri le figure che erano chiaramente più importanti sulla piazza di Roma domani ad esempio ci soffermeremo in dettaglio sulla qualità del San Carlo Borromeo che va ricondotto senza dubbio all'intera paternità della completa paternità di Orazio Gentileschi a mio giudizio la vecchia teoria che fosse una immagine di collaborazione iniziata da Orazio Gentileschi e terminata da guerrieri non rende giustizia alla bellezza di questo dipinto però parleremo domani davanti a quel dipinto che cos'è che ha un po scusate la banalizzazione insomma che cos'è che ha rovinato un po la percezione storica di questo dipinto il fatto che San Carlo Borromeo bonta sua non fosse non c'è la fisionomia di un fiore insomma quindi Gentileschi ha un po inasprito un po questi caratteri insomma un po così provati sofferenti che quindi per certi versi hanno spostato rispetto la visione di questo santo rispetto alla bellezza di questo angelo che gli sta sopra insomma no che e qui si apre proprio il problema di uno dei grandi motivi no che che rendono la nostra cattedrale di cui siamo non orgogliosi no della della nostra cattedrale ovvero la presenza del Gentileschi che nella cappella appunto del crocifisso lascia una delle sue riflessioni pittoriche più più emozionanti più affascinanti no è un po vedere il grande caravaggista no il grande protagonista della grande novità caravaggista che si misura con la nostra cultura con la nostra con una cultura non così avanzata per certi versi noi caravaggio lo scopriamo attraverso Gentileschi no qui a fabriano e si misura con una cultura diciamo per certi versi tardo trecentesca e quando lo vedremo domani davanti agli affreschi insomma da una lettura stupefacente della passione appassionata sua figlia come noto dopo il processo del finito il processo del 13 che badate bene anche lì in realtà bisogna sempre distinguere no effettivamente si narra molto di questa fuga no di Gentileschi che in qualche modo turbato no da questo processo per la violenza subita da artemisa sofia lo vedete qui la vedete qui in un suo autoritratto in realtà comunque sia lui l'aveva fatta sposare e mandata a vivere a firenze quindi l'aveva sistemata e sostenuta degnamente no la figlia per superare questa questa situazione e comunque sia il processo non aveva portato questo è importante spesso perché altrimenti si ha l'immagine no di un di un padre quasi colpevole no che è costretto a fuggire per chissà quale disonore no in realtà il disonore era stato quello di del tassi del collega di gentileschi di matteo tassi che diciamo invagito con questo trasporto insomma anche giovanile di artemisia caramino renne per questo collega in realtà poi comunque quale quale gesto fa che gli getta discredito il fatto che rifiute il matrimonio riparatore no e per cui rifiutando il matrimonio riparatore scatta il processo per violenza no per violenza sessuale insomma perché altrimenti anche di fronte diciamo purtroppo a uno stupro il matrimonio riparatore in qualche modo non metteva a tacere tutto quindi badate bene perché spesso si racconta questa storia no che di questo padre di questa figlia turbati dal disonore no dal punto di vista sociale gentileschi e sua figlia riescono a gestire ne escono fuori a testa alta da questa situazione non è che scappano cioè non è che scappano cioè certamente lui l'allontana da roma gli trova a firenze una sistemazione tutto rispetto un matrimonio un altro un altro pittore comunque di di grande livello dell'ambiente medicio quindi che garantisce alla figlia una dignità di vita importante e gentileschi compro come tutti i maestri poi si muove lavora ancona lavora qui a fabriano si muove seguendo insomma no le commissioni insomma no cioè bisogna anche leggere un po fra le righe insomma no l'idea di questo pittore che scappa e si rifugia a fabriano perché insomma no turbato questa vicenda è un po anacronistica insomma perché ripeto loro da queste vicende ne escono comunque a testa alta di fronte alla società romana infatti lui lavora a fabriano come continua a mantenere la sua bottega roma insomma cioè parliamo di un pittore che allora era nel fiore della della carriera con grande successo e quindi per certi versi va anche un po stemperata l'idea che gentileschi si sia trasferito per anni a lavorare a fabriano sicuramente c'è stato un anno forse un anno e mezzo quando ha lavorato al cantiere della cattedrale e nello stesso periodo sicuramente ha fatto il ha fatto anche le altre opere ma però ecco pensare un gentileschi che rimane tre quattro anni fabriano è un po un po dura insomma da accettare comunque è interessante lo vedremo domani anche nelle altre opere fabrianesi la celebre maddalena la l'adorazione la madonna del rosario non insomma che sono molto note nella nostra cultura la san francesca romana che adesso si trova a turbino vedete comunque questo maestro che porta una ventata di grande cultura romana ma riesce a dialogare con la nostra cultura riesce a fare a donare a noi fabrianesi delle immagini moderne ma di successo perché comunque riuscivano a parlarci a noi fabrianesi riuscivano a parlare nostre fabrianesi con una grande bellezza con una grande intensità motiva con grande intensità spirituale senza poi comunque per esempio vedete qui nella madonna del rosario lui rispetta quelli che sono tutti i canoni tradizionali dell'iconografia del rosario che è un'iconografia tipicamente domenicana insomma quindi vedete un pittore estremamente moderno nello stile ma che si comporta come tutti i grandi e bravi buoni professionisti no che sanno sempre mediari tra quelli che sono le esigenze tue dell'artista del creatore e anche le desiderate del committente no e questa anche l'intelligenza no del buono e del del bravo professionista e poi domani lo vedremo nel dettaglio no insomma vedremo come arrivano comunque guerrieri Salvatore Rosa e Gregorio Preti tutti questi grandi protagonisti della scena romana di inizio del seicento che appunto raccontano questa ricchezza e che appunto fanno di San Benedetto e di della nostra cattedrale no delle raccolte no delle esemplificative del meglio della pittura romana seicentesca chiaramente scuso i grandi spagnoli caravaggio insomma ecco i grandi bolognesi no insomma esce proprio comunque forte e questo appunto l'orgoglio che vedremo sabato girando per la nostra cattedrale no di questo sforzo che impegna per circa 20 25 anni una generazione una comunità che riesce a donarci questo grande e davvero la nostra cattedrale è comunque un mondo no perché come tutte le grandi chiese importanti poi c'è una stratificazione che vedremo tanti aspetti ma anche negli oggetti nelle arti minori che voi tutti quasi conoscete ci sono ancora delle chicche da studiare estremamente interessante però ecco come introduzione storica volevo che aveste ben chiaro proprio questo concetto no di come è nata e di quello che è stato lo sforzo di questa grande comunità grazie tante e allora ci vediamo sabato alle 10 dove parleremo appunto in dettaglio di alcuni aspetti grazie